Girati verso quella parte là, eccola! Funziona! La doccia del talento! No, perché quando ti scaldi troppo facendo papalardo, ho paura che ti vada un po' il sangue in ebollizione. Vieni davanti al microfono, amico mio. Signori, lui ha fatto press, è stato bloccato. Poteva demoralizzarsi, poteva dire mannaggia non mi è andata bene e invece ha avuto una grande opportunità nella vita. E la vita ci insegna una cosa, che quando ci dà un'altra opportunità noi dobbiamo riuscire!